Si tratta di un pareggio tra Taranto e Francavilla. Le due compagini di Serie D si sono incontrate sul rettangolo verde per recuperare la giornata di campionato numero 14. La squadra rosso-blu è scindenne dalla difficile trasferta contro una compagine che ora si attesta al secondo piazzamento di Classific in condominio con il Matera, bloccato in casa dalla capolista Marcenise. Sin dai primi minuti di gara crederci il Francavilla che già al sesto minuto si rende pericoloso. Ferreira raccoglie una punizione e lancia ma viene intercettato da Cagliazzo. Brivido in casa Taranto. Poi solo sei minuti più tardi Marani sventa un nuovo pericolo. La compagine di Papagni al diciassettesimo ci prova con Mignogna dopo tentativo ancora del Francavilla con Pioggia e Sperandeo. Al ventottesimo giunge la rete di vantaggio dei padroni di casa. In gol Alexic su azione di Sperandeo. Il Taranto reagisce da subito con diverse azioni interessanti e Mister Papagni passa al 4-4-2 prima dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Seconda fase di gioco il Taranto sigla all'ottavo minuto di gioco il gol del pareggio. Autore della rete Balistreri il quale prima calcia col testro e poi su opposizione di Ricciardi ricupera la palla e guadagna lo specchio della porta. Al quarto d'ora della ripresa la compagine di Lazic non riesce a capitalizzare le numerose azioni da gol create. Le due squadre ora tentano di passare in vantaggio. Al ventitraesimo il potente fuori area di Ciarcià e al venticinquesimo Lancellotti approfitta di un'indecisione del giovane Vivacqua e tenta il tiro bloccato in area. E' al trentanovesimo del secondo tempo che la compagine della città dei due mari va in vantaggio. Molinari dinanzi a Porta in custodita tira e centra Taranto in gol. La partita però non ancora terminata e Secum con un destro dalla lunetta si insinua sotto l'incrocio dei pali. E' il quarantunesimo minuto. Ultimi istanti di partita, infortunio di Pulci e ancora un tentativo di Pisani. Poi il triplice fischio finale e la gara termina in parità. Un punticino per entrambe le squadre e grande spettacolo in campo.